Si lavora per risalire alle cause dell'incendio al poligono di Galceti, lunedì proclamato lutto cittadino. A settembre parte la svendita alla libreria cattolica che poi chiuderà a fine ottobre. Lavori per l'efficientamento energetico al Politiama, lunedì arriva la Maxi Group per posizionare pannelli solari sul tetto. Buon pomeriggio dal telegiornale di TV Prato, torniamo ancora a occuparci dell'incendio al poligono di Galceti, nel rogo sono morte due persone, una terza è rimasta gravemente ferita. Si lavora per capire le cause, la struttura è stata sequestrata. Cosa ha provocato l'incendio al poligono di tiro di Galceti? Come e perché il direttore di tiro Gabriele Paoli e il tiratore Alessio Lascialfari sono morti? Sono queste le domande che restano il giorno dopo la tragedia al poligono di tiro. Le risposte arriveranno dalle indagini della procura che potrebbe anche nominare un consulente tecnico per provare a chiarire le cause e la dinamica del rogo. L'incendio al poligono è divampato ieri pomeriggio verso le 16. Due le vittime, Gabriele Paoli, direttore di tiro, 67 anni e Alessio Lascialfari, 66 anni, che si stava esercitando. Gravemente ferito un terzo uomo, un 46enne in struttura di tiro che ha riportato ferite sul 35% del corpo ed è ricoverato al centro grandi stuenati di Pisa. Secondo le prime testimonianze dirette, dichiara nel poligono, l'incendio sarebbe partito dalla linea di tiro del poligono da 50 metri. I motivi restano da chiarire. Il rogo potrebbe essere stato innescato dal residuo di polveri da sparo altamente infiammabili che si accumulano davanti le linee. Non si esclude nemmeno che possa essere stato scatenato dal ritorno di fiamma di un'arma che stava utilizzando una delle vittime. Sarà l'inchiesta a dare maggiori certezze. Sempre secondo le testimonianze, Paoli e il ferito avrebbero cercato di domare l'incendio con gli estintori, venendo però sovraffatti dal fuoco. L'istruttore di tiro è riuscito a fuggire, seppur gravemente ferito, mentre Paoli e Lascialfari non sono riusciti a lasciare la struttura in fiamme. I corpi delle due vittime, date inizialmente per dispersi, sono stati ritrovati dopo un paio di ore carbonizzati. L'incendio dal poligono si è propagato al parco di Galcetti salendo fino al Monteferrato. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore, impegnando decine di uomini e tre elicotteri antincendio. All'1.40 di questa notte sono concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'incendio nel poligono. Dopo la rimozione delle salme delle due vittime, sono state apporsi sigilli per il sequestro della struttura. Sono invece proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento del bosco. Sul posto stanno ancora lavorando numerosi volontari. L'incendio risulta essere in bonifica. Il Comune di Prato ha proclamato per lunedì 29 luglio il lutto cittadino per il tragico incendio scoppiato dal tiro a segno nazionale di Galcetti che ha causato la morte di Alessio Lascialfari e Gabriele Paoli. Le bandiere del Palazzo Comunale saranno esposte a mezz'asta e listate al lutto. Alle 16.30 la cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle due vittime e come segno di vicinanza alle loro famiglie. Resta attiva fino a revoca l'ordinanza di chiusura del Parco di Galcetti. Cambiamo argomento. Approvata la prima votazione del bilancio 2024 del Comune di Prato che assegna 6,6 milioni di euro fra gli investimenti. Ci sono gli interventi di ripristino post alluvione e risorse aggiuntive per il distaccamento della Polizia Municipale al Serraglio. Mentre per quanto riguarda la spesa corrente 1,6 milioni di euro sono destinati al sociale. E' stata approvata dal Consiglio Comunale di Prato la prima variazione del bilancio 2024 per un totale di 6,6 milioni di euro di cui quasi 4,4 per investimenti. Fra questi per gli interventi di ripristino post alluvione su infrastrutture, scuole e per la tutela dell'ambiente sono inseriti a bilancio altri 660 mila euro. 55 mila euro andranno invece ad aggiungersi alle spese per il restauro in corso della parte sommitale delle facciate e delle merlature di Palazzo Pretorio, intervento già finanziato per 180 mila euro. Vi sono poi i lavori di rinforzo delle travi del Ponte Petrino per 120 mila euro. Ulteriori 700 mila euro riguarderanno l'edilizia scolastica. Ci sono poi il cofinanziamento di 650 mila euro per la realizzazione della nuova sede dell'URP della Polizia Municipale e della sede del distaccamento territoriale in piazza dell'Università. Risorse che si somano ai 2 milioni di euro stanziati dal governo per il progetto e che vanno a coprire i maggiori costi per la sicurezza. Altri fondi riguarderanno manutenzioni e interventi sugli edifici di proprietà del Comune, tra cui Officina Giovani, Anagrafe Centrale e Manifatture Digitali. Per quanto riguarda invece la spesa corrente, nella variazione di bilancio sono stati assegnati 2 milioni e 200 mila euro, di cui 1,6 milioni per il sociale. 1 milione e 6 soprattutto per andare a rimpinguare il fondo per i minori stranieri non accompagnati, perché oltre il diciottesimo anno d'età il Ministero non finanzia più queste spese e restano a carico completamente dei comuni, per cui ci sono ragazzi, ne abbiamo oltre 100 attualmente in carico al Comune che hanno iniziato un percorso attivo scolastico e che devono essere completamente sostenuti dall'amministrazione, comeppure ci sono altre risorse legate ad esigenze di famiglie in difficoltà legate proprio alla diminuzione del contributo affitti e alle fragilità legate alle difficoltà quotidiane delle famiglie e il Comune cerca nei limiti del possibile di compensare. Ancora disordini al carcere della Dogaia a segnalare il nuovo episodio alla CGL ieri sera, un gruppo di una ventina di detenuti della prima sezione ha messo in atto un tentativo di rivolta, i detenuti per motivi ancora da accertare hanno divelto i neon della sezione lasciando al buio l'intero reparto, usando le brandine per barricarsi nelle celle e impedire intervento degli agenti di polizia penitenziaria. Dopo una lunga trattativa di mediazione la protesta dei detenuti è reentrata alle due di stanotte. A settembre, dopo la tradizionale pausa estiva, inizierà la svendita totale alla libreria cattolica in vista della chiusura definitiva prevista per il 26 ottobre. Libri, statue, rosari e articoli regalo potranno essere acquistati con sconti fino al 70%. La libreria cattolica è pronta per la svendita totale in vista della sua chiusura definitiva. Martedì 3 settembre, quando il negozio riaprirà dopo la pausa estiva, tutta la merce presente sugli scaffali e in magazzino sarà venduta con sconti dal 25 al 70%. La promozione durerà fino al 26 ottobre, ultimo giorno di apertura della libreria cattolica di Piazza Duomo, che abbassa così la saracinesca dopo 65 anni di attività. La decisione è stata presa dalla Diocesi di Prato lo scorso 6 aprile ed è dovuta ad una crisi che viene da lontano. Sono state percorse diverse soluzioni prima di arrivare alla scelta finale, ma nessuna ipotesi, commentò il vicario generale Monsignor Daniele Scaccini, si era rivelata sostenibile. Dal 3 settembre sarà dunque possibile acquistare libri, articoli regalo, paramenti, lampade a olio, statue, croci e rosari a prezzi scontati. Saranno già esposti anche gli articoli natalizi, tra questi le apprezzate statuine del presepe realizzate da Fontanini. Fino al giorno della chiusura definitiva, fissata per il 26 ottobre, la libreria cattolica sarà aperta solo al mattino dalle 9 alle 13. Poi inizierà una nuova vita per questi ambienti affacciati su Piazza Duomo. I locali saranno ristrutturati e a lavori ultimati, manterranno la stessa destinazione di tipo pastorale e culturale. Svolta green per il Politeama entrano nel vivo i lavori per l'efficientamento energetico del teatro. Lunedì arriverà la Maxi Grue per posizionare i pannelli solari sul tetto che così permetteranno di ridurre i costi dell'energia. Una gru alta circa 15 metri che svetterà sui tetti del teatro Politeama Pratese lunedì 29 luglio. Servirà per posizionare i pannelli solari per l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del Politeama dopo una prima movimentazione effettuata nella giornata di mercoledì sul lato di Via Detintori. Il teatro Pratese diventerà più green ed efficiente dal punto di vista energetico, uno dei pochi in Italia, grazie al cofinanziamento europeo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di 400.000 euro che ha premiato il progetto di riconversione in una struttura più attenta all'ambiente e al risparmio di energia. Iniziate alla fine di giugno i lavori ora entrano nel vivo, un calendario programmato per il periodo estivo per scandire la marcia green del Politeama, complice la Pasa nella programmazione artistica in modo da concludere tutti gli interventi entro il mese di ottobre. Dal canto suo il teatro riuscirà ad economizzare i costi dell'energia e del riscaldamento grazie all'utilizzo del fotovoltaico dal minimo impatto visivo, il tutto con il parere favorevole della sovrintendenza. Nel 2022 il Politeama Pratese vinse il bando del Ministero della Cultura nell'ambito del PNRR ottenendo un finanziamento di 400.000 euro che è il massimo previsto per la tipologia dei teatri fino a mille posti nella misura dell'80%, piazzandosi tra i 348 interventi finanziati dall'Unione Europea su scala nazionale. Dopo il posizionamento dei pannelli solari si procederà con la sostituzione degli infissi con serramenti ad elevate prestazioni energetiche e la riqualificazione del sistema di climatizzazione che permetterà di riscaldare la zona dei foyer degli uffici senza dover accendere tutto l'impianto del teatro. L'impianto di illuminazione è già stato riconvertito con la tecnologia LED a basso consumo. Non ci sono aggiornamenti, il telegiornale del giorno finisce qui, vi do appuntamento a quello della sera, come sempre non dalle 20 e 30 e vi consiglio di rimanere sempre aggiornati consultando il sito tvprato.it. Arrivederci e buon pomeriggio.